Musica Venerdì 14 novembre, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. Il movimento politico denominato Italia Unica si insedia anche nel Molise, tra i fondatori del nuovo partito Maurizio Tiberio, Michele Coralbo e Fabio Baranello. Nel prossimo mese di gennaio arriverà a Campobasso il leader Corrado Passera. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Italia Unica, il movimento politico creato dall'ex ministro Corrado Passera, a gennaio diventerà un nuovo partito saldamente ancorato nel centrodestra, nonostante le oggettive difficoltà che la politica in genere registra nei rapporti con i cittadini, il responsabile per il mezzogiorno di Italia Unica, Nico Pannoli, è fiducioso ed è arrivato a Campobasso per lanciare la nuova formazione anche nel Molise. Italia Unica è un movimento che diventerà a gennaio partito, nato intorno alla figura di Corrado Passera che è il nostro leader. Ecco, una politica senza sé e senza ma, che ha qualcosa realmente da dire e che ascolta le stanze del territorio, viene anche qui, si presenta anche nel Molise. Nel Molise a chi si affida Italia Unica? Nel Molise noi stiamo crescendo intorno alla figura di Maurizio Tiberio che ha dato la sua disponibilità con cui ci siamo incontrati ed insieme a lui abbiamo aperto la prima porta in Molise e costruita insieme a Maurizio con Fabio Baranello, Mario D'Apice e Michele Coralbo. Quindi sono le nostre tre punte di diamante a Campobasso. In quale schieramento si colloca Italia Unica? Corrado Passera è stato molto chiaro. Il nostro è un percorso che ci vede estremamente vicini ai percorsi classici del centrodestra. Noi cerchiamo non di rinnovare la politica di centrodestra ma di riformarla, di riformarla dall'interno. Quindi siamo centrali alla rinascita del centrodestra. Passera alternativa a Matteo Renzi? Passera alternativa a Matteo Renzi. Noi ci auguriamo che in questo percorso che deve necessariamente essere condiviso con le forze più grandi del centrodestra si riescano a trovare le condizioni per una opposizione in questo momento sana a Matteo Renzi e che riesca poi a far sostituire la figura di Matteo Renzi con una figura di altissimo profilo che sia condivisa nel centrodestra. Passera verrà nel Molise? Noi stiamo costruendo il nostro percorso intorno a Corrado Passera, a quelle che sono le sue idee. Corrado Passera sarà in Molise. Io sono certo che verrà qui in Molise nel mese di gennaio. Quindi a gennaio lo avremo, faremo un grande convegno e lui sarà il relatore principale. Continua la polemica sull'addizionale regionale IRPEF pagata dai molisani dal 2011 in poi per effetto del piano di rientro dal debito sanitario. Sarebbe illegittima e dovrebbe essere restituita le parole dell'avvocato Franco Mancini che ha avviato una procedura pilota. Sentiamo Marcella Tamburello. Per colpa del debito sanitario del Molise i cittadini della regione sono stati costretti con la finanziaria del 2010 a pagare le aliquote IRPEF più alte sborsando parecchi soldi. Una procedura imposta alla regione dal governo centrale con la legge di stabilità 2010 è illegittima, come ha spiegato l'avvocato Franco Mancini. Abbiamo visto in questa finanziaria del 2010 una possibile lesione a vari principi di fonte costituzionale, in particolare il principio di capacità contributiva. Perché? Perché la finanziaria del 2010 sostanzialmente delega a dei tavoli tecnici il giudizio sulla congruità dei piani di rientro dai disavanzi sanitari ed è previsto in via automatica l'applicazione dell'aliquota massima delle addizionali regionali a carico dei contribuenti di quelle regioni che siano appunto giudicate in deficit. Ora la capacità contributiva è un principio fondante insomma dell'ordinamento tributario, un principio cardine attorno al quale ruotano anche altri il principio della solidarietà, il principio dell'eguaglianza, della progressività, il principio di ragionevolezza. perché si dice che il cittadino deve concorrere in base alla propria capacità contributiva alle spese pubbliche ma la capacità contributiva rappresenta anche un limite oltre il quale non si può andare se non ledendo appunto i suoi diritti. Quindi la capacità contributiva è una barriera anche di tipo garantistico. Ora mi chiedo quale pur remoto nesso collegamento logico e giuridico si può intravedere tra il disavanzo sanitario e la capacità economica, la forza economica di ciascun cittadino. Anzi paradossalmente si ritiene in questa maniera che la capacità contributiva, la forza economica sia corrispondente alla debolezza del sistema sanitario di riferimento e questo mi sembra palesemente un non senso. Ecco non risponde al criterio di ragionevolezza del prelievo tributario. Un vero e proprio metodo punitivo per i contribuenti molisani ha commentato l'ex assessore Luigi Velardi che sostiene appieno l'istanza dell'avvocato Mancini e che ha invitato la regione a sposare la causa. Contribuenti che adesso potranno chiedere il rimborso di quanto pagato appena ci sarà la risposta della procedura pilota già avviata. Regione tra crisi autonomia a rischio e sviluppo il ruolo dell'Università del Molise saranno questi i temi affrontati nella puntata di Moby Dick in diretta questa sera a partire dalle 21 ospiti di Giovanni Minicozzi saranno il presidente della regione Paolo Frattura il costituzionalista Michele Della Morte il senatore del PD Roberto Ruta e il rettore dell'Università degli Studi del Molise Gian Maria Palmieri ci saranno anche gli interventi esterni del governatore dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso dell'ex ministro Corrado Passera e del già presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta dopo tre assoluzioni dell'unico imputato Antonio Pinelli si riapre di nuovo il caso sulla morte di Alessio Masella il giovane che alla fine degli anni 90 fu trovato carbonizzato in un casolare di Roccamandolfi la procura generale della Corte d'Appello di Campobasso ha infatti deciso di ricorrere alla Corte di Cassazione Sergio Di Vincenzo Una vicenda ai limiti dell'incredibile tre assoluzioni non sono state sufficienti a chiudere il caso per la morte di Alessio Masella il giovane di Cantalupo trovato carbonizzato in un casolare di Roccamandolfi nel 1999 si apre un nuovo capitolo stavolta alla Corte di Cassazione il procuratore generale della Corte d'Appello di Campobasso ha infatti deciso di impugnare la sentenza con la quale a giugno è stato assolto Antonio Pinelli unico imputato e cugino della vittima per lui erano stati chiesti 24 anni di reclusione per omicidio ma anche in Appello l'epilogo è stato lo stesso Pinelli non è stato ritenuto responsabile della morte di Masella alla stessa conclusione erano arrivati anche i giudici del Tribunale di Sernia nel 2008 e dopo la riapertura del caso nel 2013 per i magistrati che finora si sono pronunciati su questa vicenda non ci sono elementi tali da giustificare la tesi dell'omicidio si trattò di un incidente come sostenuto da Gianluca Gianmatteo avvocato di fiducia dell'imputato di diverso parere Carlo Moscato e Giovanni Petrarca legali dei genitori della vittima quell'incendio non si verificò per caso secondo loro fu commesso un omicidio in quella notte di agosto di 15 anni fa una tesi naturalmente condivisa dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Campobasso che ha dunque chiesto che sia la Corte di Cassazione a dire l'ultima parola forse è tutto per la nostra informazione adesso la rassegna stampa partiamo con il giornale del molise.it cassa integrazione o cassa da morto burocrazia e disperazione storia lunare di una regione da chiudere l'articolo è a firma di Pasquale di Bello violento nubifraggio sulla costa fango e detriti sulla statale 87 mentre l'Adriatica è stata chiusa al traffico per allagamenti detenuto ferito alla testa muore in ospedale aperta un'inchiesta caso Biomasse Civitas Itzo della Wilbac dice un comitato per far dimettere il presidente della regione frattura area di crisi distretto Campochiaro Venafro avviato l'iter alla camera Odissea 2014 nella stazione di Campobasso viaggio tra agevolazioni inesistenti per i disabili di serie B ancora altro titolo Termoli sfrattata da casa popolare sostegno dalla solidarietà raddoppio Termoli lesina possibili modifiche al progetto Cerro al Volturno bosco trasformato in discarica di Eternit scatta il sequestro dei Carabinieri Comune di Campobasso critiche al programma di Battista perretta accusa solo slogan ITR Agostino Falco nuovo presidente Oti in consiglio la moglie di Antonio Rosati Iserni attenzione per lo sfratto da una casa dello IACP di una famiglia con tre bambini testamento biologico scoppia la polemica di Giacomo dice atto illegittimo ci sono poi editoriali idee e opinioni ancora altre notizie dalla regione ma anche dall'Italia e dal mondo vediamo adesso come titola primo piano Molise detenuto cade da un letto a castello e muore il 45enne era rinchiuso nel carcere di Iserni ha portato al Veneziale è stato poi ricoverato al Cardarelli dove è deceduto mercoledì disposta l'autopsia i familiari vogliono la verità e chiedono che la magistratura faccia luce sul caso in alto l'odissea continua sei interminabili ore per tornare in treno da Roma sale la protesta dei pendolari agguato a Salvini tra le persone fermate c'è anche un termolese l'aggressione si parla dell'aggressione al segretario della Lega area di crisi partito l'iter parlamentare distretto produttivo Campochiaro Venafro poi la vertenza Molise dati Wiltux il contratto è scaduto a giugno ma 13 precari continuano a lavorare in nero nubifraggio sulla costa strade allagate e auto in panne Termoli buttata fuori di casa e abbandonata il movimento difesa del cittadino in campo per Maria Isernia senza reddito e con tre bimbi piccoli bloccato in extremis lo sfratto degli ACP vediamo adesso le notizie dall'Abruzzo vasto posizioni organizzative e promozioni da Alessandro dice già tutto scritto per lo sport cercasi riscatto Campobasso Farina dice prova d'orgoglio per i nostri tifosi il ritorno catalano sprona il Termoli ora c'è la serenità giusta per risalire sono le sue dichiarazioni eccellenza il venafro si rinforza velardi di nuovo con i bianconeri vediamo adesso come titola il quotidiano del Molise anche qui in primo piano questa notizia detenuto muore in ospedale è giallo non convince la tesi della caduta dal letto nella cella in carcere a Isernia il 45enne è stato trasferito al Cardarelli per un preoccupante trauma cranico aperta un'inchiesta in alto out-out di Guarracino Molise dati deve riassumere i precari attualità Guinness Molise hanno trovato un tartufo da un chilo e mezzo area di crisi leva avviato l'iter in commissione frattura è lo step che aspettavamo per il rilancio l'onorevole plaudi al governo e invita a restare uniti le altre notizie Campobasso Tar il 20 ricorsi elettorali si balla Campobasso ancora urbanistica Ambrosio esplode caos in maggioranza Sesto Campano giù dal tetto 50enne in gravi condizioni a San Martino crolla un muro e il maltempo non risparmia la costa disagi a Termoli assalto a Salvini c'è anche un termolese per quanto riguarda lo sport serie D lupi scudieri out dragone in dubbio Fazio chiama la riscossa sempre per la serie D catalano vuole regalare al Termoli il ritorno alla vittoria vediamo adesso la gazzetta del Molise il naufragio della sanità il titolo i titolari delle aziende ortopediche bloccano le forniture garantite in convenzione l'Oscar del giorno la gazzetta lo assegna Michele Ambrosio il tapiro del giorno a Bibiana Chierchia le prime pagine dei quotidiani nazionali adesso la Repubblica così cambierà il Jobs Act accordo nel PD l'articolo 18 resta per i licenziamenti disciplinari il nuovo centrodestra non accetta le modifiche Civati va in Trincea Roma vince il fronte anti-immigrati via i profughi dalla periferia in fiamme polemica sul Viminale Alfano convoca il prefetto i dossier illegali niente segreto di Stato la Cassazione ordina Pollari va processato vediamo adesso come titola il Corriere della Sera difenderemo l'Ucraina la Nato risponde alla Russia l'intervista il segretario Stoltenberg operazioni quintuplicate dal Baltico al Mar Nero Roma attenzione a Torsapienza migranti trasferiti dopo gli scontri minori a rischio patto nel PD sul Jobs Act ma il nuovo centrodestra dice serve un vertice passiamo adesso a vedere la stampa Jobs Act pronti alla fiducia colloquio con Renzi modifiche solo per ridurre le forme di lavoro precario sui licenziamenti trovato l'accordo con la minoranza PD protesta il nuovo centrodestra serve un nuovo vertice Boschi dice no discutiamone in Parlamento Banca Italia e BCE credito alle imprese stretta anche nel 2015 l'inflazione salirà sentenza d'appello rubi bis sconto sulle condanne resta il favoreggiamento della prostituzione ma Fede Minetti e Mora ignoravano la minore età Roma la rivolta delle periferie italiane abitanti esasperati da centri di accoglienza e campi rom dopo le proteste evacuati 45 rifugiati passiamo adesso a vedere il tempo vince la guerriglia urbana immigrati tutti trasferiti periferie in fiamme Alfano convoca il prefetto e questore a Torsapienza via i rifugiati oggi il caos degli anarchici le intercettazioni segrete di Ciancimino la calunnia De Gennaro e le telefonate con i giornalisti ora vediamo il giornale il piano segreto per l'emergenza conti bloccati e prelievo forzose Europa folle un'interpellanza all'Europarlamento rivela l'esistenza di un documento riservato in caso di crisi per salvare banche e stati la BCE metterà le mani sui nostri risparmi la svolta religiosa da Mangiapreti a Neocattolico Pannella si converte in leader radicale folgorato da Gesù e da Papa Bergoglio Libero l'Italia affonda loro scioperano sindacati fuori dal mondo scrive Libero nonostante le alluvioni oggi si blocca il trasporto pubblico con una giustificazione grottesca protestiamo contro il dissesto idrogeologico un insulto ai cittadini scrive ancora Libero la verità è che i rappresentanti dei lavoratori sanno solo ripetere i loro riti inutili retromarcia del governo sull'articolo 18 e la maggioranza traballa vediamo il mattino di Napoli licenziamenti le nuove regole accordo governo minoranza PD previsto il reintegro anche per motivi disciplinari Jobs Act Renzi partita chiusa no del nuovo centro-destra serve una verifica local tax e canonerà in bolletta ecco cosa cambia poi campagna gli appalti truccati della San Italia arresti l'imprenditore Massimo Petrone manager ospedalieri ed ex vertici della società regionale Soresa dal mattino passiamo a vedere il fatto quotidiano lo Stato s'arrende ai fascisti questo è il titolo dopo le violente proteste aizzate da Casa Pound e Lega Nord il comune di Roma sgombera il centro per rifugiati di Torsapienza il Viminale lancia l'allarme così si rischia di far esplodere altri focolai intanto stampa e tv regalano passerelle a Salvini e compagni nessun monito dai vertici delle istituzioni scrive il fatto quotidiano andiamo adesso a venire Renzi stringe e chiude il PD trova l'intesa sul Jobs Act nuovo centrodestra non ci sta e sull'Italicum il Premier esclude altre trattative si ricompone la frattura con la minoranza del partito Berlusconi non molla e poi sulla soglia del 3% daremo battaglia dice poi il Messico non cede ai narcos società civile e vescovi in campo contro la catena di violenze la gazzetta dello sport le stoccate di Zorro silenzio parla Boban su Italia Croazia siete talentuosi dice l'ex calciatore del Milan ma avete tradito la vostra arte per concentrarvi sulla tattica così tra Pirlo e Verratti passano 15 anni Sacchi è stato il più grande rivoluzionario del calcio continua Boban Conte fa il miglior 3-5-2 ma con quel modulo non dominerà mai De Sciglio e Ranocchia tocca ai San Siro Boys i due azzurri chiamano i loro tifosi ci serve l'aiuto del nostro stadio dice e poi Milan torna Montolivo domani il test Gagliani Ambrogino Inter squadra a rapporto da Mazzarri DVD e discorso con la gazzetta dello sport termina la nostra rassegna stampa prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise come sempre in diretta con il Tg alle 14 grazie per averci seguito e buona giornata a tutti Gagliani 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 Grazie a tutti.